Il primo punto che ho posto è proprio il rafforzamento delle forze di polizia sul territorio, perché questa è un'esigenza che ci viene rappresentata dai cittadini, che verificiamo anche noi, che in alcuni luoghi, in alcuni orari, in alcuni giorni ci affanno. Poi abbiamo sottolineato la necessità di un rafforzamento dei dispositivi di controllo del territorio attraverso il sequestro dei motorini che vengono utilizzati per le attività criminali, in particolare le stese, dove devo dire anche sul nostro input già le forze di polizia stanno facendo un lavoro importante. Poi ovviamente abbiamo esaminato una serie di questioni, dalle gravi attività criminali che stanno accadendo di contorno ai cimiteri, dove stanno facendo un'attività di bonifica senza precedenti. Abbiamo anche voluto sottolineare al Ministro l'importanza di aver superato brillantemente con un'attività di concertazione sul territorio, una questione che poteva diventare gravissima dal punto di vista dell'ordine pubblico, che è quella del termovalorizzatore di Acerra, di cui adesso nessuno più parla, ma che è stato un fatto gestito molto in prevenzione. Si è parlato anche del tema Movida, delle ordinanze. E poi ho voluto sottolineare un aspetto, il Ministro Accolto l'ha detto anche in conferenza, sottolineando il ruolo di Napoli in questo momento a livello nazionale e internazionale, soprattutto per cultura e turismo, io ho voluto ribadire nuovamente una concezione. A mio avviso le estorsioni a Napoli sono molto alte, molto più di quelle che vengono denunciate. E quindi questo è un modo da una parte per dimostrare da parte le forze criminali il controllo del territorio, ma dall'altro ho voluto anche sottolineare l'esigenza che hanno le organizzazioni camorristiche di dover pulire il denaro sporco. Quindi siccome noi abbiamo un dato positivo, che è dato da uno sviluppo della città, un'economia circolare forte, siamo terzi per start-up giovanili, che è un dato che pochi sottolineano, cioè se tanti giovani non stanno andando via da Napoli e stanno investendo nella nostra città, ma è necessario che le forze soprattutto preventive, investigative, ma anche di polizia giudiziaria e di magistratura, quindi sul piano repressivo, facciano un lavoro importante perché altrimenti si va a alterare il mercato e non è una cosa buona. Quindi da una parte vediamo il lato positivo, dall'altro siamo preoccupati però da un controllo del territorio che viene fatto anche sotto il profilo criminale, come dimostrano anche alcune inchieste degli ultimi giorni, poi abbiamo toccato davvero molti temi. Quindi da questo punto di vista credo che sia assolutamente prevalente l'attività di rafforzamento delle forze di polizia, di cui il Ministro ha preso impegno. Vabbè, poi giusto due dati affinché delle questioni non diventino in qualche modo potenziali di ordine e sicurezza pubblica. Uno, i trasferimenti che lo Stato deve garantire agli enti locali, deve arrivare l'ultima trancia entro fine novembre, altrimenti se non paghi gli stipendi per andare a questione di ordine pubblica. E secondo, forse una telefonata a Pomicino non sarebbe male, ho detto al prefetto di Napoli perché sinceramente questo atteggiamento lo troviamo molto grave, molto poco rispettoso per quelle che sono le richieste del Ministro e del Sindaco di Napoli che ha chiesto al Ministro e che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti tempestivamente ha colto. Veramente non riesco a capire se è un capriccio o una mancanza di rispetto nei confronti della nostra città che sta vivendo una sofferenza importante e questo è un tema di sicurezza pubblica che già stiamo soffrendo sulla tangenziale e sulla città, io credo che sia giusto che fino al 24 novembre, data ultima per i lavori, ci sia la gratuità del pedaggio. Sindaco, i migranti è uno dei temi che aveva più divisa da Salvini, però in conferenza effettivamente il Ministro ha un po' evaso ben tre domande sul tema, no in comitato... No, 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 infatti no, la domanda era se in comitato si era parlato di questo e se le soluzioni del Ministro lo avevano convinti. Devo dire che ho avuto un momento che effettivamente sembrava quasi essere passati anni luce perché ricordo che esattamente il comitato presidito da Salvini fu quasi tutto incentrato sul tema degli immigrati. Adesso in comitato il Ministro e il Prefetto hanno sottolineato che non c'è un tema immigrazione di rilievo e non c'è una questione saliente tanto da registrare, una focalizzazione particolare del comitato. Questo perché lo voglio dire? Perché quella questione è stata molto pompata politicamente, molto evidente durante il governo Conte 1. Oggi però ho voluto sottolineare al Ministro che bisogna stare molto attenti perché non ci sia uno spostamento verso la clandestinità dell'immigrazione, un tema che a noi sta molto a cuore, quindi la rivisitazione, questo lo dico, non l'ho detto in comitato, lo dico qua come considerazione politica della legge sicurezza che a mio avviso va completamente rivista. Invece ho voluto sottolineare la grande opportunità che tra qualche giorno consegneremo alla città con l'inaugurazione di Piazza Garibaldi in cui noi vogliamo registrare un vasto condominio in cui ci siano anche le comunità di migranti che partecipano in modo da eliminare quelle immagini che non ci piacciono, che certe volte si vedono da Porta Nolana, da altre parti del vasto con vendita di oggetti invendibili o come mercanzie dei rifiuti, mentre invece quello che abbiamo progettato come il mercato multiettico in una parte di Piazza Garibaldi e la partecipazione anche della comunità di migranti alla vita della piazza può diventare un modello di integrazione davvero incomiabile e questa questione l'ho portata in comitato perché anche le forze di polizia svolgeranno il loro ruolo da questo punto di vista e quella sarà una grande sfida. Quindi veramente è stata un'immagine che mi ha colpito se pensavo la differenza di concentrazione che c'è stata sul tema immigrazione tra il comitato preseduto da Salvini e il comitato sicuramente più equilibrato e più sulla concretezza da parte del ministro Lamorgese. Allora, ha parlato della tangenziale, è preoccupato da questo fenomeno emergente delle rapine in tangenziale, ne avete parlato? Quali possono essere le contromisure? No, di questo non si è parlato delle rapine in tangenziale, è un tema che viene gestito nell'ambito del comitato provinciale per l'ordine di sicurezza pubblica senza il ministro, quindi è un tema ordinario, invece abbiamo parlato anche dei gravi episodi reiterati di violenza all'interno degli ospedali dove è necessaria una presenza maggiore e più efficace delle forze di polizia perché non può diventare un ospedale un luogo in cui si aggredisce come se nulla fosse un medico oppure come accaduto alla pigna secca dove si possa sparare come accaduto qualche mese fa addirittura all'interno del cortile, al cortile dell'ospedale. Poi abbiamo anche sottolineato il ruolo che il comune sta avendo, vorrei ritornare sul tenere dei cimiteri, noi non consentiremo a nessuno di fare il cimitero il luogo in cui bande camorristiche possano dettare leggi, l'attività di bonifica sui cimiteri va avanti senza sosta e quindi la stiamo seguendo io in prima persona.